Partiamo dalla riete. Vi siete svegliati un po' insoddisfatti? Con quello strano desiderio di cambiamento o con la consapevolezza che bisogna cambiare qualcosa per migliorare? Allora non stravolgete tutto. Toro, i protagonisti saranno la spiritualità, la serenità, il benessere interiore che sentite e che vi porterà tre metri sopra il cielo. Scoprirete cose inaspettate. Accadranno per caso cose meravigliose. Gemelli, gita fuori, picnic, in visita ad amici o parenti in un luogo diverso da quello in cui vivete. Qualsiasi sia il motivo, dovete muovervi, spostarvi, tagliare con la routine. Cancro, domenica di dubbi, incertezze, timori, domande e domande senza risposte. Sul fronte sentimentale c'è incertezza. Forse state chiudendo una vecchia storia e in contemporanea ne state aprendo un'altra. Leone, svegliatevi, fate una ricca colazione, chiedete a voi stessi che cosa voglio fare oggi? Cosa mi renderebbe così felice come non accade da tempo? Una volta trovata la risposta fate esattamente quello. Vergine, weekend intenso, però anche se qualche nuvola permane, voi vedete soltanto il sole sopra di esse, ridete anche senza motivo e la positività vi contraddistingue. Bilancia, domenica da pollice verde. Che vi piaccia o no, che voi siate un amante del verde o no, oggi sentirete un'irrefrenabile voglia di piantare dei semi, di comprare dei fiori, di organizzare un piccolo orto sul balcone. Scorpione, assoluto relax e zero pensieri. Non volete sentire nessuno, potreste addirittura essere felici di girovagare per un centro commerciale con il carrello fingendo interesse pur non essendo chiamati in causa in niente. Sagittario, l'utente non è al momento raggiungibile, la preghiamo di riprovare più tardi. Questo sarà il leitmotiv di questa giornata. Una volta svegliati inserirete la modalità aerea per il cellulare e vivrete la giornata in modalità segreteria telefonica. Capricorno, relax, uno di quei giorni che, se potete, dovete obbligatoriamente tirar tardi nel letto, sia perché il corpo è stanco, sia perché nessun altro posto vi sembrerà più bello e desiderabile delle lenzuola di casa vostra. Acquario, vivete lontano dai binari della stazione, pure proprio lì da casa vostra sta per passare un treno speciale, raro, su cui senza se e senza ma dovrete salire a tutti i costi. Pesci, vi svegliate felici quasi sempre, siete sorridenti, allegri e entusiasti. Avete tanta voglia di fare, qualsiasi sia la vostra età non conta.